I taoisti descrivono la sessualità come proveniente da due energie. Una è l'energia orgasmica, che deriva dai nostri genitali, e l'altra è un'energia più amorosa, che deriva dai nostri cuori. E secondo il taoismo, una sana sessualità deriva dall'equilibrio, dall'interconnessione di questi due aspetti, che si nutrono a vicenda. Purtroppo la nostra società ha fatto tantissimo e fa tantissimo per disconnettere questi due aspetti. Proprio perché la sessualità non è mai intesa nel suo aspetto più profondo, più intimo, ma viene vissuta soprattutto a livello superficiale. Un esempio di questa situazione è il porno, oppure una mancata educazione sessuale, che purtroppo crea danni poi nell'età adulta. Sembra, tra virgolette, essere salvo solo lo zum zum nel matrimonio, mentre quello che non riguarda il legame matrimoniale viene visto come profano, per esempio. E qua c'è un po' una contraddizione. Tu cosa ne pensi di questo argomento? Fammelo sapere nei commenti.